Ben ritrovati al NOTES di Antenna 3. Vediamo subito insieme come di consueto le curiosità di oggi. Nel 1924 ci fu il delitto Matteotti. Uccidete pure me, ma l'idea che è in me non l'ucciderete mai. Così il politico socialista Giacomo Matteotti si rivolse alla Camera dei Deputati, quasi presagendo il disegno criminoso del regime fascista di cui denunciò violenze e abusi fino all'ultimo giorno di vita. Disegno che fu messo in pratica da cinque membri della polizia politica che dopo averlo rapito nella zona del Lungo Tevere lo accoltellarono e abbandonarono il cadavere nelle campagne della capitale. Da allora Giacomo Matteotti fu assunto a figura simbolo dell'antifascismo. La gioventù non ha età. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere il cosiddetto albero della bicicletta. È una meravigliosa ma anche bizzarra scultura creata dalla natura. A Sitran, nel piccolo comune di Faradalpago, esiste un castagno vecchio, quasi un secolo, che all'interno del suo tronco ha inglobato proprio una bicicletta. La storia racconta che vi fosse un contadino che riuscì ad acquistare proprio questa bicicletta che portava sempre con sé e la appoggiava sul castagno vicino. Passarono gli anni e la bicicletta divenne vecchia e malandata, ma il contadino, non avendo cuore di gettarla via, in un giorno decise di appenderla a un ramo secco del castagno senza neppure immaginare che col tempo albero e bicicletta sarebbero diventati un corpo solo. Siamo in chiusura, prima però vi ricordo che per promuovere i vostri eventi sul NOTES potete contattarci e richiedere ulteriori informazioni chiamando il numero che state vedendo, e cioè lo 0422 1626 747. Dal NOTES di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Grazie a tutti!